Eccoci alla nostra consueta rubrica di consigli per la lettura. Questa settimana voglio parlarvi del libro di Pasquale Ciacciarelli, Ripartenza o Apocalisse. Un piccolo saggio scritto in maniera molto fluida e comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Un saggio in cui l'autore individua la ricetta, individua le soluzioni per superare momenti di crisi amministrativa, politica, sociale, economica e purtroppo in questo ultimo anno e mezzo anche sanitaria. Il nostro paese sembra essere il paese delle emergenze croniche, delle grandi crisi, dei drammi che ci trasciniamo dietro e diventano zavorre per il nostro sviluppo e invece no perché Pasquale Ciacciarelli con grande attenzione, con grande competenza ma altrettanta passione ci parla di un paese che può e deve ripartire. Da cosa? Dalle proprie grandi capacità, capacità imprenditoriali, economiche, sociali, oltre che artistiche e culturali. Noi non siamo soltanto il bel paese per l'arte, la musica, la cultura. Siamo un paese competente, un paese di professionisti, un paese di persone che hanno talento in campo economico, politico, sociale, amministrativo ed è proprio da questo talento che Pasquale Ciacciarelli ci esorta a ripartire con un'analisi dei punti oscuri, con un'analisi dei punti di criticità che il nostro paese si ritrova a dover affrontare periodicamente e ahimè anche in questo ultimo anno e mezzo abbiamo affrontato e stiamo ancora affrontando una pandemia che ci ha gettati in una crisi che non è soltanto sanitaria ma l'autore ci esorta a ripartire, a rinascere una volta ancora, una volta di più perché l'Italia è abile a rinascere e ripartire e stavolta deve farlo con grande determinazione e Pasquale Ciacciarelli individua gli ingredienti di questa ripartenza che sono ingredienti di natura economica, sociale, politica, amministrativa oltre che culturale. Il nostro consiglio di lettura per questa settimana è Ripartenza o Apocalisse di Pasquale Ciacciarelli. Vi ricordiamo che il nostro appuntamento resta sempre per ogni venerdì su Onda TV sul Mona. I nostri consigli di lettura potrete trovarli anche nella rubrica Ti racconto un libro su tutto in edicola.